con varie tecniche per fare il sentito qui iniziamo ma tu torni la mano di qua allora, esatto no, l'ideale è che tu la alzicci a prontare la prossima cosa, il centro ok, non che fai questo ok, non che fai questo tu stai arrivando a però, ok, guarda di qua questa è la fotografia la più ferma immagine qua l'alziamo così non facciamo questo perché se non lo fate questo ok, invece di qua non lo fate, già stiamo provando a fare il sentario quindi ok, guarda ok, guarda questo invece che questo. Quello che cambia è la tecnica un po' ma anche un po' di suono. In quel caso si può avere suono anche di pelle e poi ho controllato la tecnica per creare dei piccoli giocatori.